Siamo a Castelvetro e Piacentino dove anche un noto brand, Sorelle Ramonda, in questo momento sta facendo una grossa fatica in quanto la Lombardia è stata dichiarata zona rossa e quindi non può assolutamente entrare, se non per esigenze lavorative, nella zona gialla di Castelvetro e Piacentino. Ma andiamo a sentire che cosa ne pensa e come stanno vivendo in questo momento la situazione i ragazzi che lavorano all'interno, soprattutto la titolare, Laura. Noi siamo autorizzati a tenere aperto, siamo stati autorizzati, abbiamo avuto l'autorizzazione ieri, ce l'abbiamo ricevuta e malgrado questo però avendo la regione chiusa, perché la Lombardia è chiusa, noi siamo, Castelvetro è da considerare un rione di Cremona, cioè noi lavoriamo con la Lombardia, non facciamo testo per quanto riguarda, forse il 20% dei nostri clienti sono comunque della zona dell'Emilia-Romagna. Di conseguenza è un po' una beffa, nel senso che mi danno il permesso di tenere aperto, perché io non faccio parte del centro commerciale Bennet, quindi mi danno il permesso di tenere aperto ma non mi danno il permesso di lavorare, cioè io non posso lavorare, io ho dovuto dimezzare il personale e di conseguenza i clienti non vengono, non vengono perché ovviamente da Cremona la Lombardia è chiusa e di conseguenza si fa fatica, si fa molta fatica. Stiamo comunque allestendo per fare gli addobbi di Natale, perché comunque bisogna andare avanti, però si fa molta fatica. In un negozio di 3.000 metri quadrati come questo, insomma, quindi se mi fate tenere aperto, per favore datemi la possibilità di lavorare. Rispetto a un sabato, diciamo, che si avvicina poi alle festività appunto natalizie, di quanto si può attestare in questo momento, in termini di percentuale la perdita? Al 95%.